Altra rubrica fissa, una delle più amate dagli amici di FoodBrasil, i gol più belli della settimana, le azioni più belle della settimana, cominciamo dal Santos. Rodrigo Tabata del Santos, meraviglioso il suo tocco contro il Noroeste, il secondo gol del Santos, numero 4, siamo in Copa del Brasil. Grandissimo gol di Marcello Uberaba del Gama che elimina il Vasco dalla Coppa del Brasil. Prodezza numero 3 sul campo del Palmeiras. Golon davvero bellissimo da parte di Michael del Palmeiras contro Lipatinga. Ma avversari seminati come i birini. Gol numero 2 affidato al San Paolo. L'assist è quello di George Wagner, il tocco decisivo. Molto bello in diagonale di Lenilson, ma tutta l'azione merita la numero 2 di questa settimana. E la giocata top della settimana è di Finazzi del Ponte Preta. Appesantito, invecchiato, giudicate voi. Finazzi è uno che sa come si fa il suo mestiere, il gol. Finazzi è uno che vello in pudici, finazzi è uno che si fa il mio produrale di Lenilson. Grazie per la visione!